Allora sono qui in Google Sheet sul mio accanto istituzionale e ho un file in Microsoft Excel l'estensione XLS e voglio importarlo in Google Drive, ok? Come faccio? Sperando anche che mantenga tutte le formule, è la cosa più importante, non solo il formato esterno ma anche tutte le formule. Allora come faccio? Vado qua a faccio, schiaccio qua col tasto sinistro vuoto ok, a questo punto vado su file, importa e vado a vedere carica, ok? A questo punto dal mio secondo schermo ho aperto una cartella del mio computer e trascino col mouse tenendo premuto il tasto sinistro, trascino il file che si chiama effetto parametri taglio XLS.XLS e trascino, ok? Mi crea nuovo foglio di lavoro, inserisci, sostituisci il foglio di lavoro, già tanto non mi interessa importa dati col tasto sinistro, ok? E ce l'ho importato. A questo punto vado a vedere se si sono mantenute le formule, clicco qua e oggettivamente le formule si sono mantenute. dunque una grande cosa, in modo che adesso andrò a mettere effetto parametri di taglio taglio, in questo modo avrò il file salvato già adesso sulla mia cartella drive della scuola. Ok, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.